ciao a tutti amici del capricorno benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale mostrami capricorno tendenze energetiche wow che veloci capricorno abbiamo la carta dell'appeso per la prima metà di luglio quando c'è la carta dell'appeso si parla sempre di un momento di stand by di un momento lento se non addirittura fermo è una carta che comunque vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista da un'altra prospettiva e in molti casi da anche la possibilità di accettare un certo tipo di situazione o di relazione magari andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche sono per un collettivo è facile che non risuono tutto se non risuona se nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente il segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una lettura con me trovate le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024 e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale allora ragazzi partiamo con un 6 di bastoni l'eremita temperanza 2 di denari fante di coppe 4 di bastoni 10 di spade amici del capricorno allora partiamo da questo 6 di bastoni se di bastoni una bellissima carta è una carta che mi parla dei risultati di riconoscimenti di qualche tipo di livello che si è raggiunto ok però poi abbiamo anche queste remite la temperanza al contrario qui potrebbe essere o la vostra volontà il vostro bisogno di isolarvi per un periodo oppure questa sorta di ricerca interna verso un equilibrio verso una stabilità devo vedere carta per carta partiamo dal 6 di bastoni 4 di bastoni e morte vi dico sì qui c'è un un qualche tipo di risultato che dà un cambio alla vostra stabilità perché 4 di bastoni ce l'avete anche qui ma è girato al contrario quindi ho come la sensazione che un po il tema sia come ritrovare una sorta di equilibrio vedere le cose da un'altra prospettiva proprio per riequilibrare qualcosa una situazione una relazione un modo di pensare adesso andiamo a vederlo adesso io vi dico qual è l'energia generale e poi vi faccio come degli esempi per integrare la lettura però tenete presente che questa lettura può riguardare qualsiasi cosa quindi la vostra vita in generale piuttosto che la famiglia piuttosto che il lavoro ma se volete le letture specifiche per le relazioni escono la prossima settimana giovedì ogni giovedì ogni 15 giorni il giovedì e poi invece ci sono anche quelle sui single e sul lavoro e sulla famiglia che usciranno a parte e sono quelle tre scelte quindi se non le volete perdere vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanella allora qui abbiamo un asso di coppe per l'eremita e entra di coppe c'è come una sorta di riscoperta interna come la sensazione che si si ricerchi proprio la luce interna giustamente l'eremita è colui che cerca la propria luce però qui è un po come il ok ricerco il mio amore ricerco sento anche un po le relazioni in realtà con questo 3d coppe che fa riferimento agli amici qui può avere due due tipi di diciamo di lettura scegliete quella che più si addice alla vostra realtà la prima potrebbe essere fatto che abbiate bisogno di un periodo da soli un periodo per conto vostro dagli amici mentre un altro tipo di un'altra chiave di lettura potrebbe essere che state un po rivedendo le relazioni che avete di amicizia per qualcuno è una nuova relazione di amicizia ok andiamo a vedere la temperanza mago e fante di spade devo dire che vi sento un po friggere in questa situazione allora qui abbiamo morte e asso di coppe e un 6 di bastoni per cui vi dico secondo me qui cambia un certo tipo di stabilità come se si fosse raggiunto il risultato ci fosse un certo tipo di realtà che in qualche modo porta ad una fine di una stabilità vecchia di quello che avevate fino a questo momento per portare un nuovo inizio c'è un come un chiedersi che nuovo inizio voglio dove voglio andare cosa voglio fare cosa posso fare andiamo a vedere il 2 di pentacoli e la carta della peso è come se fosse il periodo ideale questo per vedere le cose da più prospettive da più angolazioni 8 di coppe per il 2 di pentacoli era di spalle e che sento che c'è bisogno di agire probabilmente in questo momento non lo potete fare perché o arrivate da un appeso o sarete in questa fase di appeso cioè di stasi di fermo adesso vediamo le carte che vengono qua però sento che più che una fase di fermo fino ad adesso sento che più che una fase di fermo è una fase di cambio di vedute perché proprio avete sia lotto di coppe che l'eremita c'è come andare a scavare su qualche tipo di verità su qualche tipo di sentimento di amicizia di emozione di relazione andiamo alla fante di coppe potrebbe rappresentare una guida ragazzi probabilmente qualcuno si rivolgerà a un mentore a una guida spirituale di solito quando c'è il papa ma non deve essere necessariamente una persona può anche essere in un libro e di nuovo il 6 di bastoni che tra l'altro ragazzo il 6 di bastoni a livello di riconoscimenti al pubblico ha la stessa energia del papa come se qui arrivasse un pre contratto e qui un contrattone però quello che mi lascia proprio essere questo quattro di bando andiamo a vederlo 4 di bastoni per proprio l'idea ragazzi che qui cambierà cambieranno delle dinamiche e qui sarete al punto di chiedervi cosa voglio fare della mia vita cosa voglio fare di questa situazione cosa voglio fare di questa relazione ho voglia di qualche cosa di diverso perché comunque adesso si sono stabile sono stato stabile ma sento come una sorta di piattume e invece da adesso in avanti le cose potrebbero un attimino rinvigorirsi allora il 4 di bastoni spiegato dalla luna e dal 7 di bastoni è come se qualcuno volesse un pochettino continuare con la dinamica del passato con una sorta di stabilità del passato che in realtà non c'è già più e qui con questo 10 di spade quello che ci dice è che ormai un capitolo è chiuso ragazzi vi dico sento questo quattro di bastoni un po instabile a causa delle vostre paure vi ripeto cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva da un altro punto di vista fatevi guidare cercate se per esempio mi dovete fare un passo a livello magari economico magari lavorativo quindi quello che dovete fare però cercate delle fonti di ispirazione magari anche semplicemente a livello di youtube cioè video gratuiti intendo però comunque il papa è come se avesse bisogno di cercare qualche tipo di guida qualche tipo di segnale qualche tipo di indrizzo qualche tipo di suggerimento andiamo a vedere 10 spalle abbiamo l'eremita nuovamente è un 3 di pentacoli sì infatti io sento che allora la prima settimana di luglio ragazzi cioè come questa sorta di riesame dire analisi di cambio qui abbiamo questo riconoscimento contratto che arriva qui c'è il ok ma da che parte vado che cosa voglio per me cercate una guida e vedrete che piano piano il capitolo di insicurezza e di certezza diciamo che sicuramente cambierete tipo di visione cambierete tipo di prospettiva anche perché anche qui avete la luna la luna una carta che parla di proiezioni generalmente ma qui al contrario come se venissero a galla quindi da lì state tranquilli perché è come se finisse il periodo di solitudine il periodo di introspezione perché vedo proprio delle collaborazioni qualcuno che vi viene incontro qualcuno che vi aiuta allora vi dirò che se fosse una questione legata ad un immobile a un affitto a una convivenza o ad una cosa per lo stile troverete un aiuto portate pazienza dovete semplicemente portare pazienza un attimo perché la carta della temperanza del contrario è come se appunto avesse quella voglia di fare di sento che state freggendo proprio per andare avanti in questo passo in questo in questo senso però qui con la carta delle remite come se si stesse cercando di capire cos'è la cosa migliore in questo momento devo dire che la temperanza mi dice anche che state cercando di equilibrare quello che vorreste che quello che magari potete fare potrebbe anche essere il tempo che volete dedicare a voi il tempo che dovete dedicare agli altri però qui ripeto verso la seconda settimana di luglio sento che è come se vi venissero in soccorso in un certo senso e potrebbero iniziare nuove collaborazioni potrebbero iniziare nuovi progetti vi dico se state aspettando qualche tipo di contratto qua è facile che arrivi non perché c'è un 6 di bastoni del papa ci parla proprio di contratti l'unica cosa non vi fate prendere troppo da come vi posso dire dall'euforia dall'enfasi del momento cercate sempre di rimanere con i piedi ben per tempi impiantati per terra perché qui il rischio forse un po di farsi abbagliare ok andiamo a vedere o che cosa vi consiglia sperimentare che mi ricordo un po la carta dell'eremita per come disegnato incappucciato e poi abbiamo ecco rallentare so che state friggendo so che state fremendo per cambiare situazione per insomma fare il tipo di passaggio che state facendo però è come se vi dicessero di aspetta un attimo vai con calma vedi le cose da un altro punto di vista cerca di valutare tutto prova a sperimentare anche altre alternative altre soluzioni è interessante perché avete tra di pentacoli 3d bastoni e 3d coppe e come se tra l'alternativa 1 e l'alternativa 2 potrebbe esserci l'alternativa 3 o come questa questa idea ok devo vedere ancora una con eccolo qua chi pone la domanda è come se vi dicessero di identificare se la domanda che state facendo è realmente vostra o è di qualcun altro è interessante ragazzi fatemi sapere se la lettura vi è stata di ispirazione se insomma vi ha dato degli spunti interessanti potete scriverlo nei commenti io li leggo sempre i commenti magari non rispondo sempre perché non ho tanto tempo però li vedo sempre tutti anzi grazie a chi si prende quel momento per lasciare il commento perché in qualche modo mi nutrite se poi volete anche sostenere il canale potete mettere like potete iscrivervi e potete condividere il video nel caso invece vogliate migliorare la vostra vita e diciamo così iniziare un percorso di miglioramento un percorso di crescita potete prenotare una sessione individuale con me via mail oppure potete abbonarvi al canale nella sezione degli abbonamenti si tratta si parla di magia bianca ok che è il conoscere se stessi cambiare modo di pensare modo di fare c'è solo una serie di cose da cambiare dentro di noi per far sì che anche la realtà fuori cambi cioè cambiamo noi dentro per manifestare la realtà che vogliamo e comunque se siete interessati potete anche guardare i titoli dei video quelli sono si vedono insomma io per il resto vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao